troppo spesso riceviamo richieste di preventivo da committenti e soprattutto richieste di vario tipo no una mail con sette righe geometri architetto ingegnere mi faccia una ristrutturazione un preventivo per questo oppure un accatastamento anche effettivamente cose apparentemente banali sulla carta o nella mail poi quando le vai a mette in pratica è un po come tirare una catena no uno tira un anello ne vengano fuori molti molti altri e scopri in corso d'opera invece che il livello di complessità imprevisti difficoltà quelle soltano proprio come funghi all'improvviso però hai fatto il preventivo in un modo e dopo devi chiedere l'extra o rettificare in aumento probabilmente il preventivo ecco perché già fare il preventivo è una consulenza significa dover vedere tutti i documenti fare sopralluoghi fare accesso agli atti in comune nelle sovrintendenze in tutti gli enti pubblici per farla molto semplice significa dover investigare e iniziare a fare tutta una serie di indagini se devo fare un parallelo è come quando un medico prima di darti la prescrizione prima di darti la diagnosi ha bisogno di fare alcune analisi valutare l'analisi rifare alcune ulteriori indagini se necessario e poi infine conclude ecco per tutto questo il medico normalmente in genere si fa pagare la sua parte il professionista tecnico deve comportarsi alla stessa maniera cioè fare il preventivo implica fare indagini significa effettuare una serie di riscontri da subito e occorre farli perché poi se no il professionista si trova come parte debole e nel dover giustificare ulteriori costi extra che purtroppo all'inizio non erano stati preventivati mi viene anche a mente un'altra cosa molto ma molto importante cioè che proprio perché gli immobili non sono bulloni non sono standardizzati non si può pensare che certe richieste certi preventivi siano veramente estendibili siano applicabili a tutti gli immobili pensiamo agli immobili vincolate agli immobili in centro storico immobili situate anche in zone agricole ovviamente lasciamo stare tutta la foresta di vincoli e ci sono in tutta italia capite bene che fare il preventivo è uguale a fare una mini consulenza e pertanto me tutte le consulenze secondo voi come è il caso di comportarsi fatemelo sapere in un commento qua sotto e iscrivetevi su questo canale e sul podcast un saluto da carlo pagliai e ci diamo appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao